Conoscevo già Andrea Di Giglio attraverso i suoi libri, ma quello che ho trovato all'interno di questo videocorso ha superato ogni mia aspettativa, preciso, dettagliato. Teoria e pratica si fondono praticamente in un equilibrio perfetto, ma quello che a mio avviso fa la differenza è che il maestro ci rende padroni di una tecnica, non si limita a trasmetterci un ricettario. Sono molto soddisfatta e molto contenta di averlo acquistato, considerando anche il costo rispetto ai numerosi contenuti di questo meraviglioso corso.